Con la fine del mercato tutelato c'è grande preoccupazione negli utenti perché chiaramente si parla di aumento delle bollette. Per quanto riguarda Estra, che cosa può dire ai clienti, visto che Estra comunque è del territorio aretino? Di non preoccuparsi perché il libero mercato, la libertà, è sempre stato sinonimo di concorrenza e quindi a tendere i prezzi si abbasseranno. Non succederà nulla, tra l'altro c'è una possibilità di rimanere con il proprio operatore anche se si è nel mercato tutelato e per tre anni almeno il cliente avrà l'offerta plase che di fatto fa restare invariata la quota della materia prima, cioè la quota energetica e la variazione può riguardare unicamente l'aspetto della quota commerciale che non può superare il 5%. Comunque una grande fetta della popolazione è tutelata dal nuovo sistema tutelare graduale per i vulnerabili. I vulnerabili sono tutte le categorie che rientrano in un decreto di cui fanno parte persone over 76, disabili, persone che abitano in alloggi di emergenza o di disagio particolare. I cittadini ricevono moltissime telefonate da vari operatori, qualcuno si spaccia anche per 600 operatori a Estra. Mi sto battendo affinché al libero mercato sia contrapposto un rafforzamento del codice di condotta degli operatori. Noi abbiamo interrotto la pratica dei contratti telefonici, noi facciamo più teleselling, dovrebbe essere una norma adottata a livello nazionale. Quello che do come consiglio è di non fidarsi e di non fare nulla al telefono.